bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi specialissima puntata perché avevo in mente di fare un altro video su what the hen si è vero ragazzi perché non ricordo chi me l'avesse detto adesso in live porca miseria ma ragazzi è appena uscito un nuovo promo code se tu che mi hai detto il codice lo stai guardando scrivimelo sotto nei commenti che ti ringrazio scusami ma ho i buchi nel cervello non me li riesco a ricordare beh ragazzi prima di andare un attimo a prendere il promo code andiamo almeno a prenderci il forzerello giornalello che non ci dà passione 33 di gold per noi segretta bandito uno fido scintillante e due golas guardiano anche le gemmine sono assolutamente da recuperare e i 50 di gold non possiamo certo lasciarli lì apriamo anche l'argentino e poi andiamo 22 di gold 2 metal gear ralph una gira motociclista 5 angela e un congelatore purtroppo non lo uso non lo uso per ragazzi il tempo è giunto questo è il deck per chi lo volesse vedere vi ricordo di andare là in alto a sinistra dove c'è il livello del vostro personaggio aprire quindi la scheda profilo e poi cliccare sul tasto verde in basso con scritto codice promozionale prima di darmi il codice però ragazzi mi raccomando dai 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 scaricate almeno 150 like per questo video così arriveranno speriamo più velocemente nuovi promo code e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto il promo code è 100k fans andiamo a fare invia codice vediamo un po fuia mille di gold e venti gemme ragazzi wow che super promo code veramente veramente meraviglioso dai ragazzi direi che per oggi è veramente tutto spero di avere un riscontro esagerato da parte vostra per questo mega video fatto proprio sul rush finale e noi ci vediamo questa sera in live ciao